Ikea catalogo inverno 2024-2025, tutte le novità da non perdere. Scopri le novità del catalogo Ikea inverno 2024-2025, che trasforma ogni ambiente in un'accogliente oasi di colore e vivacità. Lasciati ispirare dalla collezione Small Stud di Ikea, che trasforma la cameretta dei più piccoli in un mondo di avventure e creatività. Esplora la nuova collezione Winterfint di Ikea, che unisce tradizione e stile con caldi contrasti cromatici per un Natale magico. Rinnova la tua camera da letto con le proposte audaci di Ikea, dove colori e tessuti trasformano il riposo in un'esperienza visivamente stimolante. Grazie per la visione!